Questo corso mi è piaciuto l'unione che c'è stata tra di noi, tra tutte le persone che si è creata nel gruppo. Si sentiva un'energia fantastica e ancora adesso riesco a sentirla. È un'emozione fantastica, la consiglio veramente a tutti, perché veramente ti dà un cambiamento esagerato, è un cambiamento veramente pazzesco. Io ho sciolto i blocchi che mi tenevano legati al mio lavoro attuale. Sciogliendo questi blocchi sono riuscito a capire veramente cosa voglio fare per creare la mia vita futura. Durante questo corso ho sentito energie davvero altissime che mi hanno veramente motivato a cambiare e per andare verso la mia missione di vita. Ciao Patrizia, sei fantastica, grazie veramente di cuore. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti.